Noi abbiamo attualmente una compagine di circa 550 persone e abbiamo lanciato un piano di assunzioni che prevede un'espansione in linea con i nostri programmi industriali e facendo dei prodotti altamente critici perché noi lavoriamo nel settore aeronautico, nel dettaglio produciamo componenti per sistemi di propulsione aeronautica e quindi la formazione è per noi fondamentale e noi facciamo la formazione a tutti i livelli, dagli operai agli ingegneri ai dirigenti. Per noi la trasformazione è consistita soprattutto nell'allearci con altre imprese specializzate nel settore aeronautico e uscire da un isolamento di singola azienda per attivare dei progetti di rete consociativi con altre aziende con le quali abbiamo stabilito delle alleanze rivolte sia ad incrementare i rati di produzione, quindi alleanze con scopi industriali, ma anche abbiamo una rete di imprese concentrata su attività di ricerca e sviluppo.